Si è concluso da poco l'anticipo della decima giornata di Serie A che ha visto l'Inter ospitare la Sampdoria. I padroni di casa, hanno vinto 3 a 2 grazie alla rete di Skriniar, e alla doppietta di Icciardi, per i blucerchiati a segno Kovnaki e Quagliarella. L'Inter si gode la serata da capolista in attesa del Napoli impegnato domani a Genova. Ecco di seguito le pagelle Inter Sampdoria. Andanovic voto 5 maggio 2 punti In colpevole sul secondo Goal, qualche responsabilità in più sul primis non è costretto agli straordinari. D'Ambrosio voto 6 Colpevole insieme ad Andanovic sul primo. Goal, fa a sportellate con gli avversari, e insieme a Candreva è una spina nel fianco sulla sua fascia. Skriniar voto 7 Altra prova monumentale per il difensore che va a segno anche contro la sua ex Sampdoria. Pilastro difensiva e pericolo sui calci da fermo. Miranda voto 6 Partita nella norma la sua, ma come sempre ci sono qui 5 minuti in cui stacca la spina e va in difficoltà. Nagatomo voto 6 maggio 2 punti Spinge moto sulla sua fascia e copra bene. La cura Spalletti sembra fargli bene, rigenerato rispetto agli anni passati. Dall'84 Santun S.V. 2 punti